Saint Germain in una nuova linea temporale della vostra creazione di James McConnell 17 aprile 2024 sono venuto per essere con voi in questo momento in questo tempo propizio in questo momento epocale a cui vi state avvicinando non tanto per l'eclissi che sta per verificarsi l'eclissi solare ma per il cambiamento il cambiamento che sta arrivando su tutti voi su tutti voi che siete pronti su tutti voi che vi siete preparati e avete lavorato andando avanti in questo lasso di tempo in questa linea temporale che avete creato e sì in effetti tutti voi avete creato come coscienza collettiva qui sul pianeta avete creato una nuova linea temporale una nuova linea temporale che sta divergendo dalla vecchia la vecchia linea temporale biblica la vecchia linea temporale profetica dell'armageddon e della distruzione non sarà così come avete sentito molte volte ormai come vi abbiamo detto guidandovi guidandovi lungo il cammino lungo questa nuova transizione in questa nuova linea temporale sappiate che siete stati stati scelti per questo e avete scelto voi stessi di essere parte di questo parte di questa nuova espressione di luce superiore e sappiate che dopo l'eclissi solare sentirete questa nuova espressione di luce superiore sentirete la luce sentirete l'intensità la vibrazione nell'aria stessa quelli di voi che sono maggiormente sintonizzati con la natura la sentiranno nella natura stessa come se la natura si fosse ulteriormente risvegliata lo sentirete nella brezza tra gli alberi lo sentirete negli uccelli che volano sopra le vostre teste lo sentirete nel tocco dell'erba sui vostri piedi e dei fiori che sbocciano ovunque è l'inizio della primavera della primavera in questa zona del paese sentitelo nell'aria sentitelo sulla vostra pelle sappiate che mente sperimentate questo mentre questo diventa sempre più in sintonia con voi e in sintonia con esso in sintonia con l'espressione superiore che arriva attraverso questo sole di questo sistema solare un portale che si apre e che permette a queste nuove energie superiori di passare ancora una volta bagnando la terra bagnando tutta la vita qui è un precursore del grande lampo solare che si sta ancora avvicinando a questo mondo come sempre amici miei abbiate fiducia nel processo abbiate fiducia nel processo all'interno di voi stessi mentre vi muovete sempre più avanti in questa transizione questa transizione che vi sta portando ognuno di voi sempre più all'interno di voi stessi e sempre più lontano dalla vecchia illusione della terza dimensione sappiate sempre di più che le cose che si sviluppano intorno a voi nel mondo esterno all'interno dell'illusione sappiate che in realtà è solo questo un'illusione più ne diventate consapevoli più vi rendete conto che si tratta semplicemente di un'illusione e vi ritroverete sempre più a non essere in sintonia con quell'illusione a non essere più intrappolati in quell'illusione nel vecchio programma abbiate fiducia nel fatto che la vecchia programmazione sta svanendo sempre di più e più vi fidate di questo più sarà così non solo per voi come individui ma anche per voi come collettività tutti coloro che sono pronti a risvegliarsi a ciò che sono ora fanno parte di questa transizione e vi muoverete davvero attraverso questa ascensione sono saint germain e vi lascio ora in pace in amore e in unità e vi auguro di continuare ad andare avanti andare sempre avanti e fare un passo avanti non più indietro e se ogni tanto vi ritroverete a scivolare ricordate che avete la fiamma viola che avete la luce dentro di voi e intorno a voi e che vi protegge sempre così come tutte quelle delle vostre guide gli angeli gli arcangeli e i galattici che sono tutti lì a lavorare attraverso e per questo processo di ascensione per voi abbiate fiducia continuate a confidare in voi stessi traduzione e voce marina